Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video, benvenuti nel video dove ce tocca fa la valigia, ce tocca, me tocca, però ve tocca pure a voi guarda mentre io faccio la valigia. Allora ho aspettato fino a sabato pomeriggio inoltrato per leggere tutti i vostri commenti, perché oggi a luna è uscito il video dove vi faccio vedere i vestiti che vorrei portare, non lo so, sono indecisa, boh forse vediamo, ma che ne so, boh, e devo dire che siete state super gentili e mi avete scritto un sacco di commenti, un sacco di consigli, quindi mi avete reso la vita un po' più semplice. Sono ancora un po' indecisa perché ho fatto anche i sondaggi su Instagram e, beh, è un po', cioè, allora, siamo tutti d'accordo sul vestito di gala, siamo tutti d'accordo sul vestito di gala perché effettivamente quello nero con le farfalle è talmente particolare che, cioè, te lo devi mettere solo in un'occasione del genere, veramente, per forza. Anche se tanti mi avete scritto che è molto bello quello fucsia, solo che, boh, cioè, quello nero con le farfalle è talmente particolare che penso che alla fine opterò per quello, comunque la maggior parte di voi ha scelto quello sia nei commenti che su Instagram. Qualcuno mi ha scritto che gli anfibi non sono eleganti. Allora, a parte dipende come li porti, nel senso che se li metti sotto un vestito molto elegante, soprattutto se è lungo, a parte manco se vedono, e poi, cioè, io mi ci trovo a mio agio e una ragazza mi ha scritto un commento molto bello, elegante è qualcosa che ti fa sentire bene, non qualcosa che è elegante per gli altri, anche perché, vi posso dire, le décolleté mi fanno schifo. Cioè, nel senso, non mi piacciono proprio i piedi, i tacchi a décolleté. Cioè, o è una scarpa molto particolare, ma se ce l'ho un paio di décolleté, dietro me li regalò tanti anni fa a Luca. Allora, una volta mi sembrava cosa normale mettere la décolleté. Adesso, come adesso, metteme una décolleté, poi ancora peggio se con le calze. Cioè, proprio, me viene brutto male. Cioè, no, non me le voglio mette. Quindi, sarebbe una cosa portata e so già mai indossata. Probabilmente avrei trovato delle scarpe andandole a cercare da Marco. Sicuramente ci sarà stato qualcosa che mi poteva piacere per... Apri la porta da sola qua. No, Matilde. Un vestito elegante, sicuramente ci sarebbero state delle scarpe adeguate. Comprarmi un paio di scarpe per mettermele solo in questa occasione, solo con un paio di volte magari, perché con un paio di vestiti, sinceramente, mi sembra uno spreco atomico. E c'ho un décolleté argento sotto al letto, l'ho preso tanto tempo fa su Shein, non l'ho mai messo. Non c'ho neanche il tacco altissimo, eh. Potrei pensare di prendere quelli per sicurezza? Perché se una sera me vedo male, non credo, non lo so. Vabbè, mo ve faccio vedere, aspettate, così cominciamo a fare la valigia. Eccole qua. Queste sono le décolleté in questione. Io c'ho solo queste. Boh. Non lo so. Vediamo, facciamo così. Se resta spazio in valigia, me le porto. Se non c'è spazio in valigia, stanno a casa e mi metto sempre gli anfibbi. Qualcuno mi ha detto, ah, ma gli anfibbi con i vestiti corti stanno male. Ma secondo me no. Cioè, anzi, con il vestito corto, l'anfibbio, secondo me sta bene. Senti, non lo so. Cominciamo a mettere roba dentro la valigia e vediamo quello che c'entra. Se c'entrano, beh. Se non c'entrano, eh, non bene. Questa è quella di Luca, praticamente piena. Ho messo tutte le cose divise nei sacchetti tipo di Shein, di Temu. Così rimangono più ordinate, non si stropicciano. È strapiena e non ci sono le scarpe. Per questo vi dico che è impossibile che io riesca a portarmi più scarpe. Perché Luca si è portato veramente troppa roba. Io di questo sono convinta. Però non sia mai che a Luca gli elevi i suoi vestiti. Quindi ci arrangiamo. Io porterò un po' meno roba. Tanto, cioè, non credo che neanche serva troppa roba. Perché poi alla fine quando ti sei portato due felpe, due jeans, che ne so. Cioè, boh, vabbè. Comunque, cominciamo a mettere le cose. Ho preparato tutto quanto qui. Come per la valigia di Luca che vi ho fatto vedere nel wikivlog di domenica, ho messo tutto quello che mi devo portare qua sopra. E cioè, la roba di Luca era pieno fino a qua, tutto il tavolino. E poi qui c'ho due felpe. Che so, tra l'altro ho preso solo cose di Barbie. Ma va bene, cioè, alla fine è come me vesto di solito. Ho preso due felpe, non troppo pesanti. Qui ci sono i vestiti delle serate anni 70. Che sono la prima sera. E questa è la roba con cui voglio partire. Quindi felpa e un jeans. Così questo occupa più spazio. Lo metto per partire e poi me lo posso rimettere un giorno che scendiamo. Felpetta perché è comoda. Comunque sia dovrebbe anche far freddo lunedì mattina. Quindi la felpa ci sta. Poi chiaramente sotto la felpa ci metterò una maglietta di quelle che c'ho nell'armadio. Insomma, ancora non l'ho scelta. E lunedì mattina in teoria ha messo pioggia. Però, cioè, alla fine noi saliamo in macchina qua. E scendiamo direttamente al porto. Quindi piove, chi se ne frega. Mi porterò l'ombrello e pace, insomma. Però la felpa secondo me basta. Tra l'altro come cappotto mi voglio portare il mio cappotto, quello grigio. Quello che mi vedete sempre ultimamente. Questo qua preso su Shein. Non è né troppo pesante né troppo leggero. L'unica pecca è che non c'è il cappuccio. Però c'ho il cappello. Quello di teddy nero e beige ce l'ho. Quindi mi porto il cappello. Poi se dovesse proprio piove c'ho l'ombrello. E pensavamo di prendere dei concio, quelli di plastica. Se proprio becca una giornata di acqua terribile. Per quando scendiamo dalla nave, chiaramente. Ma con questo cappotto mi trovo bene. È comodo. Non è troppo elegante. Non è troppo sportivo. E in realtà me lo metto tutti i giorni. Quindi so che mi sta comodo. Perciò porto questo. Sicuramente. Sti giorni ha fatto freddo. Ma con questo stavo comunque bene. Quando fa caldo se lo apri stai comunque bene. Perciò cappotto porto solo questo. Non ne porto altri. E vediamo. Vediamo. Poi possiamo fare questa valigia. E dovrò anche stirare qualcosa probabilmente. Ma non troppo. Al massimo due pantaloni nuovi. Bene. Io inizierei dalle cose per il giorno. Poi vediamo alla fine i vestiti per la sera. Così c'ho ancora tempo di leggere i vostri commenti. Su Instagram e su YouTube. Questa vale uscire un'altra volta. Io veramente. Ma come l'ho fatto. Allora. Non è vero. Mi mancheranno tantissimo. Adesso che ce ne andiamo. Però vabbè. So che stanno buone mani. Perché stanno con Caterina e Silvano. Allora. Come pantalone. Sia per scendere dalla nave. Che per stare sulla nave. Perché comunque. Te devi vestire. Non è che poi andrò in giro. In ciabatte e costume. Perché. È inverno sostanzialmente. Quindi non è proprio estate. È vero che. Sulla nave fa caldo. Ma. Cioè. C'ho idea che se mi vado a beve una cosa al bar. Dei pomeriggio. Mi vesto. Non è che vado in giro in mutande. Un dubbio ce l'ho sul. Quando voglio andarmi a fare il bagno. Perché comunque le piscine sono riscaldate. Tutte quante. Dentro e fuori. C'è la piscina interna su questa nave. Cosa che non c'è in tutte le navi. Ma su questa sì. Però. Anche le piscine esterne sono riscaldate. Allora. Diciamo che io mi metto il costume. Sopra me dovrò mettere. Che ne so. Una tuta. Con che ce vado. Mica se posso andare a col copricostumo. E fammi il bagno. Soprattutto perché. Quando esci dall'acqua. Dentro l'acqua fa caldo. Perché gli idromassaggi. Stanno tipo a 40 gradi. Cioè. Dentro l'acqua fa caldo. Ma quando esci dall'acqua. Fa freddo. Te li copri. Cioè. Quindi. Gli asciugamani te li danno loro. Non te li devi portare. Quindi c'hai. Gli asciugamani quelli MSC. Perciò tu ti metti. L'asciugamano. E poi vai in cabina. Cambiate. Cioè. Non è che poi sta in costume. Col costume bagnato. A piazzole. Non lo so. Non lo so. Ma ho letto. Che comunque ti danno gli asciugamani. E poi. Ti metti. Cioè. Magari. Mi metto. Sotto di una tuta. Con una felpa. Faccio il bagno. Esco dall'acqua. Asciugamano. Vado in cabina. Mi cambio. Mi sembra una cosa logica. Comunque. Vestiti. Sia per scendere dalla nave. Che per stare sulla nave. Questo. È il pantalone nuovo di Sheen. Che mi piace tantissimo. No. Io portà. È nuovo. È bello. Mi sta bene. È comodo. L'unica cosa. È che è stropicciabile. Però. Chi se ne frega. Adesso lo stiro. E poi lo metto in valigia. E spero che non si ciancichi troppo. E se si ciancica. Pacell'anima sua. E questo. Stessa cosa. Che è sempre di Sheen. Sempre nuovo. L'avete visto nel video. Di lunedì. Ho preso delle cose bellissime. Tra l'altro. Questo lo puoi mettere. Sia così. Che così. Quindi. È come avere due pantaloni in uno. Vabbè. Questi sono. Un po' elegantini. Ma manco troppo. Comodi. Comunque. L'ho provato. Mi stanno molto bene. Perciò. Questi. Me li voglio portare. Entrambi. Dopodiché. Mi porterò. Guardate eh. Vabbè. Tanto questi lo stira. Mi porterò. La tuta. C'è. Una tuta. Random. Ho preso questa nera. Che chiaramente è pulita. Ma la devo spelare. Prima. Vabbè. Tanto porterò. Un leva peli. Perché. Per quanto io possa spelare le cose. Prima di partire. Ci saranno sempre. Dei peli di cane. Quindi ho preso. Una tuta nera. Semplice. Proprio da mettermi. Per andare. In piscina. Cioè. Mi infilo questa. Poi. Quando torno. Torno con l'asciugamano. Però. Una tuta comoda. Me la volevo portare. Non tanto per uscirci. Perché. Ho una che è scecata. Però. Per andare in piscina. Mi sembrava comoda. Poi. Da mettere. Sopra quei pantaloni. Per scendere dalla nave. Ho preso. Il maglioncino. Questo. Nuovo. E il maglioncino. Questo. Nuovo. Quindi. Mi porto. Sti due maglioncini. Nuovi. Non l'ho mai messi. Poi sono cortini. Ma quei pantaloni. Sono a vita alta. Quindi. Mi sembrano perfetti. Un paio di t-shirt. Non troppe. Perché. Sinceramente. Non lo so. Manco se mi serviranno. T-shirt. Così. Però. Se sulla nave. Dovesse fa caldo. Magari. Il giorno di navigazione. Invece della felpa. Mi metto la t-shirt. Questa è nuova. Mai messa. Carina. Grigia. Tra l'altro. Qualcuno di voi mi ha scritto. Il grigio sta bene. Con i tuoi capelli. Non ho un vestito grigio. Mi porto la t-shirt. E poi. C'ho questa nera. Che invece. Avevo già messo. Quelle bianche. Non le ho portate. Ne ho portate due. Dei t-shirt. Perché quante t-shirt. Me devo portare. Non lo so. Penso che bastino. Poi. Ho preso. Invece. Dei t-shirt. Che occupano più spazio. Un po' di questi toppini. Visto che tutti i pantaloni. Che ho portato. Sono a vita alta. In realtà. E visto che tutti. Va bene. Fidiamoci del semore de caldo. La felpa. Magari me la leggo in vita. E me porto. Tutti i toppini. Solo che rega. Io la roba. Oddio mio. Quante volte. Dei cani. Possono entrare. E uscire. Da una casa. Io la roba. Estiva. Estiva. Ce l'ho. Tutta. Guattata. Un altro cane fuori. Stiamo pieni. Dei cani. Che vuoi. Entra. Sta roba. Estiva. Estiva. Ce l'ho. Inguattata. Non lo so. Manco dove. Sotto vuoto. Quindi. Io. Non è che mi sono messa. Riapri tutto. Ste cose. Ce l'avevo portata. De mano. Quindi. Ho optato. Per prendere. Come cose. Leggere. Estive. Questi. Quindi. Tutti questi. Toppettini. Così. Questo. A costine. In realtà. Anche da mettere. Mi pare un vestito. Che c'aveva bisogno. Di metterci qualcosa sotto. Non lo so. Quindi. Non ho preso un altro nero. Questo è proprio corto corto. Poi ho preso. Questi due. Di barbie. Sì. Vado a fare la crociata. Di barbie. Praticamente. C'ho anche il body. Di questo bianco. Sempre di barbie. Questo. In realtà. È proprio il sopra. Di quella tuta. Non so se mi servirà. Ma va bene. Uno grigio. Un altro body. Di barbie. Praticamente. Invece delle canotte. C'ho i body. Perché. Le canotte. Non so. Do stanno. I body. C'havo dentro all'armadio. Quindi ho preso quelli. E poi ho preso uno pure così elegante. Che non so bene a che mi serve. Ma in realtà io questo. Me lo metto anche per andare a lavorare. Non è che sia elegante. Quindi volendo. Me lo posso mettere anche come outfit. Per scendere dalla nave. Non si sa mai. Non dovrebbe fare un freddo eccessivo. Non dovrebbe fare un freddo eccessivo in nessuno dei posti dove andiamo. Ho visto un po' il meteo. E anche se il tempo non è bellissimo. Sia a Palermo che a Malta. Ci stanno circa 18-20 gradi. Quindi pure se piove non dovrebbe fare freddissimo. Ma non si sa mai. E io ho preso una maglia termica. Perché comunque ho una certa età. Quindi la maglia termica mi sembrava che era necessaria. Stessa cosa per le canotte della salute. Non ne ho portate tante. Perché ovviamente se ti metti i doppini te servono. Però un paio. Così. Per stare tranquilla un paio di canotte della salute io me ne sopportate. Poi questione costumi. Quanti costumi ti porti? Non so. Tre. Mi pare. Quattro forse ne ho presi. Ne ho presi quattro. Che mi parano troppi sinceramente. Perché non credo che faremo il bagno tutti i giorni. Però. Non lo so. E poi non so se me si asciugano. Perché comunque non è estate. Non è che. Cioè. Te fai il bagno no? Poi però te ne vai subito in cabina. Al costume riporti zuppo. Non è che te si asciuga. Sì o me ti asciuga in cabina. Ma non so quanto si può asciugare. Perché comunque non è che te sdragli al sole. A prendere sole. A far asciugare costume. Quindi ho detto. Vabbè fammene portare qualcuno di più. Che seppure non si asciugano. Non ce n'ho uno per giorno dopo ce l'ho. Allora. Ho preso questo fucsia. Che avevo preso. Non mi ricordo dove. Però era molto bello. L'avevo già messo. Quando siamo andati. In vacanza. St'estate con Luca. E questo mi piaceva. Carino. Fucsia poi. C'ho i capelli in lilla. Mi pareva carino. Ho preso due cuffie. Ma secondo me non servono sulla nave. Se non mi ricordo male. Però ce l'avevo. Ho detto. Vabbè io li porto. Se no poi metti che servono. Me lo devo comprare. Ho portato questo lilla. Sempre in tinta con i capelli. E pure questo l'avete visto st'estate. Perché l'avevo portato. Quando siamo andati. Il giorno e mezzo al mare. E l'avevo portato questo. Ce n'ho uno di Shein. Questo qua. Con tutti i bolan. Che è nuovo. Mai messo. Mai leopardato. Quindi. Perché non portarselo. E poi ce n'ho uno. Muy bello. Che non ho mai messo. L'avevo preso da. Intimissimi calzedonia. Lì all'outlet. Questo è di The Zenith. Era bellissimo. Sempre stato bellissimo. Ma a me è sempre stato. Piccolo. Ma non piccolo. Perché mi stava piccolo. La misura è giusta. È una M. Però. Visto che qui. È aperto. È un costume intero. Però qui è aperto. E qui di lato. Mi faceva. La fianchetta gigante. Quella che c'avevo. Ma visto che. Devo dire. Che per ora. Pare. Si è andata via. L'altro giorno. L'ho provato. Non mi dispiaceva. E quindi. Ho detto. Ma sai che c'è. Io mo porto. Perché poi. Questo è un costume. Che d'estate. Non te lo puoi mette. Perché. Te viene il segno. De la panza. Ariche. No. Eh. Però. Visto che. È inverno. Non è che devo prendere il sole. Ho detto questo. Mo lo posso mette. Perciò. A costumi. Quattro. Secondo me. Sono troppi. Forse tre bastavano. Però non riuscivo a scegliere. Tra uno e l'altro. Quindi. Vabbè. Il costume. Non è che mi occupa tutto. Questo spazio. E. Metto tutto quanto. Anche io. Come ho fatto per la valigia. Di Luca. Diviso nelle sacchette. Quindi. Adesso piego tutto. E faccio tutti i sacchetti. Separati. Così. Poi. Quando li schiacci. Fanno un po' un effetto sottovuoto. E la valigia. Si chiude meglio. Genio. E poi le cose stanno più in ordine. Poi. Alla fine. Come borse. Ho scelto. Questa. Come mai. Voi mi avete detto. Portate solo questa. Ci avete pure mezzo ragione. Potrei portare solo questa. Però. Boh. Ne porto sicuramente in paio. E qualcuno mi ha scritto. Ma portati una borsa. Con la tracolla. Che la puoi. Allora. Questa c'ha. Questa corta. Ma dentro la borsa. Non ve l'avevo fatto vedere. C'ha anche la tracolla lunga. Che quindi. Ti tiene le mani libere. Te la puoi mettere pure per traverso. Perciò. Ce l'ha dentro. Quindi questa. In realtà la puoi portare. In mano. A braccio. E a tracolla. Infatti. Super comoda. Sta borsa. Molto carina. Portiamo questa. Che in teoria sta bene. Con tutti i vestiti. Ma. Per sicurezza. Io questa. Ma la porto. Mica me impiccia. Cioè. A fine. È una borsetta. Talmente piccola. Pure questa. C'ha questa. Che quindi. È super comoda. Perché rimane morbida. Gli elevi il manico. E ci metti quella. Con la borsetta. Che rimane morbida. Secondo me. È super comoda. Quindi ne porto ste due. E visto che. Stasera. È in red. Io continuo a pensare. Che sia una serata italiana. Se sarà una serata italiana. Io sarò pronta. Con lei. Con lei. Anche lei. C'ha la tracolletta. Tutte ste borse. C'hanno la tracolletta. Questa tra l'altro. L'ho presa. In quel video. De compro le borse. A 2 euro. Su Shin. Sapevo. Che mi sarebbe tornata utile. Prima o poi. E quindi. Io me la porto. Se non va bene. C'è la serata italiana. Questa non va bene. Con nessun vestito. Però. Se ci dovesse essere. Una borsa verde. E il vestito rosso. Cioè. Eh. Poi. Ci abbiamo. Pigiamini e ciabatte. Che avete visto nel calendario dell'avvento di Luca. E ho pensato. Allora. Perché. Ovviamente porteremo una valigia a testa. E uno zaino a testa. Quindi lo zaino. Proprio quello. Tipo quello con cui Luca va in palestra. Ok. Quindi. Uno per uno di quelli. Anche per metterci. Il primo cambio della prima sera. Che ti consigliano di metterlo dentro. Il beauty. Io mi devo portare per forza al computer. Perché se no. Non riesco. A farvi uscire i video. Quindi mi serve il computer. Perciò. Tutte queste cose. Insomma. Che ne so. Gioiellini vari. Che poi. Tutta bigiotteria. La nostra. Tutte so serie. Però. Vabbè. Comunque. Tutte le cosine più piccole. E anche tutta la roba tecnologica. La mettiamo negli zaini. Però. Quegli zaini. Li so. Abbastanza grandi. No. Sono tipo zaini da scuola. Se io devo girare in nave del giorno. O. Cioè. Devo mettere. Che ne so. Gli asciugamani della piscina. O. Il costume è bagnato. O. Che ne so. Anche quando scendiamo. Porto per porto. Io non mi ho in moglie. Andangilo con zaino da scuola. Quindi. Ho preso sti due. Allora. Questo. Questo sbloccherò. Un ricordo a tantissimi di voi. Perché questo è il mio. Ispac. Di quando andavo a scuola. Cioè. Questo è proprio. Lo zaino. Che portavo a scuola. Ci aveva attaccato i pupazzi. Una volta. E tra l'altro. È del colore. Perfetto. In questo momento. E io credo. Che questo. Per girare. Nelle città. Sia la cosa più comoda. Anche più comoda. Di una borsa. Perché io ho pensato. Mi porto la borsa. Quella che porto tutti i giorni. Ma la borsa. È scomoda. Mentre invece. Questo. Lo mettete davanti. E c'avete lo zainetto. Con dentro tutto quanto. Portafogli. Cellulari. E quant'altro. Davanti. Attaccato. Bello. Addosso. Che non ve possono rubare niente. Perché andiamo in dei posti. Tipo Barcellona. Che a me viene l'ansia. Di Barcellona. Perché ho visto un miardo di video. Dove rubano anche l'anima. Se non stai attento. Quindi io questo ce l'avrò. Bello tatuato addosso. Non è troppo ingombrante. Non è troppo grande. E è ricco di ricordi. Quindi mi sembrava giusto portarlo con me. E poi. Per Luca invece. E tanto non lo userà mai. Perché tanto mi ammolla tutta a me. Ma se gli dovesse servire uno zainetto. C'ho questo. Di Gorilla. Che. Non so se vi ricordate. Un po' di tempo fa. Avevamo fatto un video. Che i ragazzi di Gorilla. Ci hanno mandato delle cose. Sono degli amici di Luca. Che ha conosciuto facendo il tour. Ci hanno mandato. Questo zainetto. E ho pensato. Che questa era l'occasione giusta. Per portarlo. Anche perché. C'ha questa doppia chiusura. Super sicura. Perché c'ha la zip. E poi si chiude anche così. Quindi. In realtà. Probabilmente. È lo zaino più sicuro. Che noi possiamo portarci. Forse si chiude al contrario. Sì così. E poi c'ha anche le tragolle. Quindi. Ho pensato. Che se Luca vuole portare uno zainetto. Quando scendiamo. Questo poteva essere. Una buona alternativa. Perché è veramente. Piccolino. Compatto. E c'ha un sacco di tasche. Tra cui questa laterale. Quindi seppure te lo metti davanti. C'ha la tasca di lato. Che ti rimane bella attaccata addosso. E mi sembra l'ideale. Poi. Per il giorno. Quindi da mettere. Con quei pantaloni. E col jeans con cui parto. Che sicuramente riutilizzerò. Durante i sette giorni. Che andiamo per vari porti. C'ho una felpa più leggera. E un'altra sempre leggera. Non ho portato niente di troppo pesante. Mi pare che va bene. Tutta roba dei Barbie. E basta. Quelle con cui partiamo. Il fatto di vedere. Poi c'ho la giacca nera. Questa. Che vi ho fatto vedere già. Nel video. Dei vestiti. Questa qua. Con questo davanti. E l'altra. In realtà. Mi sono accorta. Che. Non era proprio pulita. Cioè. Me l'ero messa. Tipo una volta. Quindi visto che devo comunque lavare. Delle cose per Luca. Cioè. Un pantalone. Che ci ha suonato ieri sera. Se lo vuole portare. Ho messo una lavatrice. Quindi. Si deve asciugare. Però. Conto che. Mettendola davanti. Alla stufa. Si dovrebbe asciugare. Adesso io. Tutta questa roba. La impacchetto. La metto in valigia. E poi passiamo. Al beauty. E accessori vari. Mentre ho riempito. Quasi la metà della valigia. Arriviamo alla questione. Vestiti per la sera. Dopo aver letto. Un sacco. Dei vostri commenti. Ora sicuramente. Ne arriveranno altri. Però. Devo fare la valigia. Per forza. Allora. Vediamo. A che conclusione sono arrivata. Quello rosso. Nonostante qualcuno. Mi ha scritto. Il rosso. Non sta bene. Con i capelli. Ho capito. A serata è rosso. Non è. Ma posso portare un vestito. Un altro colore. Serve un vestito rosso. Quindi. È rosso. Lo porto. Ok. Poi. Io. Quello leopardato. Me lo porto. Ho letto un commento adesso. Con scritto. Il leopardato è volgare. Raga. Io me lo porto leopardato e zebrato da 1999. Cioè. Così. Per dire. Nel senso che anzi. Ultimamente. Un pochino. Sto migliorando. Ma. Vi dovete credere. Cioè. Io. Una volta. Avevo anche la camera zebrata. Quindi. Raga. Me so laureata. Col tocco. In testa. Invece che la corona. Come usano. Io ho fatto il tocco zebrato. Me l'hanno fatto le mie amiche. Quindi. È volgare. Se non lo sai portare. Non do so a me niente. È volgare. Quindi. Il leopardato. Io me lo porto. Perché. Cioè. Mi sembra giusto. Onore al leopardato. Questo. È il vestito bianco. Che alla fine. Avete già visto. Nel video di Shein. Quindi. Non lo spacchetterò. Perché l'ho piegato per bene. E quindi. Questo è. Il completo. Per la serata in bianco. Questo. Abbiamo dei pareri discordanti. Ma su Instagram. Il più. Ma avete detto. Portalo. Ed effettivamente. È molto carino. Cioè. È un po casual. Visto che le serate. Sono casual. Direi che questo. Lo potremmo portare. È vero che molti casual. Intendono i jeans. Con una maglietta. Ma. No. L'ho già spiegata. Questa cosa. Io non porto i jeans. E maglietta. Per la sera. A cena. Cioè. Come. Non lo so. Vado in vacanza una volta ogni sei anni. Io mi voglio vestire bene. Poi ce l'ho vestito. Comunque. Eh. Casual. Poi. Alla fine. Siamo tutti d'accordo. Che. Eh. Le farfalle. Non possono rimanere a casa. E se non me lo metto adesso. Quando. Cacchio. Mi metto un vestito. Ricoperto di farfalle. Mai. Quindi. Mi porto il vestito. Con le farfalle. Anche perché. Non si estropiccia eccessivamente. Per la serata. Di gala. Ci metto gli anfibbi sotto. Fatevele una ragione. Poi. Eh. Questo che era. Ah. La tuta di bagliette. La tuta di bagliette. C'ha tanti lati positivi. Cioè. Non si stropiccia. Perché è di bagliette. Eh. È carina. È casual. È un pantalone. Quindi. Se ci metto gli anfibbi. Nessuno morirà. Eh. Perché io porto gli anfibbi sotto. Ha un pantalone. Perché non si vedono. È larga. Quindi. La tuta di bagliette. Sarà la seconda scelta. Cioè. La terza scelta. Perché le ho guardato. Eh. Con le coppe argentate. E. Eh. Tuta di bagliette. Quindi. La terza serata. Eh. Casual. Sarà la tuta di bagliette. Poi. Ci rimangono. I due vestiti. Con le frange. Tutti mi avete detto. Porta questo. Chiaro. Ok. Questo nero. Però. Io me lo porto lo stesso. Perché. Come ho spiegato. All'interno di questa nave. C'è. Questo bar segreto. Se riusciamo ad andarci. Il bar è a tema anni venti. Se ci riusciamo ad andare in una serata. Eh. Dove c'è un tema. Che ne so. Tipo la prima sera. Il tema della prima sera. È anni settanta. Eh. Il vestito ce l'ho già di là. Ve l'ho fatto vedere in busta. Eh. Vado in cabina. Mi cambio. E mi metto quello. Perché voglio andare al bar a tema. Vestita a tema. Quindi. Mi cambio. Perciò. Visto che. Non si stropizzano. Non occupano troppo spazio. Eh. Li porto entrambi. Adesso li piego bene. Questi occuperanno una bustina in due. Quindi. Se possono portare. E così. C'ho anche una. Eh. Seconda scelta casual. C'è una. Qui. Quinta. Sì. Quinta scelta. Quarta. Boh vabbè. Insomma c'è un'altra scelta casual. Che alla fine. C'è posta. E. Tutti mi avete detto. Ma sui vestiti corti. No. Tutti. Alcuni mi hanno detto. Sui vestiti corti. L'anfibio non ci sta bene. E non è no. Dai. Cioè. Non è che ci sta bene. L'anfibio sta bene. Su tutto. Poi ve l'ho detto. Non vado a comprare scarpe. E tantomeno mi porto altre scarpe. Ci abbiamo in ballo. Sempre. La decoltè argentata. Che. Effettivamente. Probabilmente. Ci potrebbe anche. Sta bene. Anche se io. Con le decoltè. Me vedo uno schifo. Eh. Però. Bisogna vedere. Se c'è posto in valigia. E posso dire. Ne dubito fortemente. Comunque. Adesso. Metto bene i vestiti. E li metto nella valigia. Sono riuscita a fare entrare. Tutti i vestiti. E tutte le cose. Stirate. Per il giorno. Nella valigia. Ci ho anche messo. Le calze. E. Due paie di scarpe. Di Luca. Io. Ho deciso. Porto solo gli anfibi. E una scarpata ginnastica. Che adesso. Metto dentro. Però. Con gli anfibi. Ci parto. Perché occupano. Tanto spazio. E. Porto. Questo zaino. Uno per me. E uno simile. Per Luca. E ci mettiamo dentro. Ripeto. Computer. Primo cambio. Della prima sera. I beauty. Di tutte le cose. Che ci possono servire subito. Perché ti dicono. Di portarti le cose utili. Tipo le medicine. E queste cose qua. A portata di mano. Perché se le valigie. Ti arrivano più tardi. Magari non fai in tempo. A cambiarti. Perché le valigie. Possono arrivare. Fino alla sera. E quindi. Anche dopo. Che ti hanno dato la cabina. Di solito no. Però. Se sa mai. Quindi. Metto le cose. Beauty. Tech. E il primo cambio. Negli zaini. Adesso. Li preparo. Ovviamente. Mi porto anche questa. L'ho comprata. Perché non portarla. Anche perché. Il phon. Della nave. Non credo che sia. Un super phon. Almeno con questa. Faccio un po' la piega. E quindi. Ok. Mi porto anche questa. Però la leviamo dalla scatola. Perché mi impiccio. Questa potrei pure. Metterla in baligia. Credo. E vado a decidere. Che scarpe da ginnastica portare. Vorrei portarmi queste. Che sono le mie preferite. Sono comode. Le amo tantissimo. Sono molto ingombranti. Adesso. Se gli riesco a trovare un posto. Riesco a portare queste. Sennò porterò le silver. Però. Queste sono più comode. Quindi. Vorrei veramente. Trovare un posto a loro. Allora. Siamo alle cose del bagno. Ho preso. Salviette struccanti. Salviette. Non struccanti. Ma. Così. Metti caso. Che uno dei puli una cosa. Poi. Deodorante. Denti. Fricio. Questa è del Luca. In realtà. La mettiamo nel beauty di Luca. Con la cera. Il deodorante. La schiuma da barba. Il colluttorio. Poi ho preso. Questa spazzolina. Che non è proprio comoda. Perché c'è al corno. Però non mi voglio portarla. Dango il teaser. Un po' di maschere. Viso. Da fare anche con Giova e Fra. Dei sieri. Tipo crema. Per non portare creme. Proprio. Ho portato. Ste bustine. Gli spazzolini nuovi. Poi. Qui ci ho messo. Shampoo. Shampoo. Balsamo. Balsamo. Tanto balsamo. Ho portato anche questo. Questo è uno shampoo antigiello. Questo è l'olio. Che avevo trovato. In un. Nella Nuxe. L'avevo trovato. In un giornale. Però è piccolino. È comodo. E anche i capelli. Ce lo facciamo andare bene. Questa settimana. E niente. Mancherebbero. I trucchi. E un beauty di Luca. Ma poi quello se lo fa lui. Quindi lo zaino. Poi sta roba. La metto dentro lo zaino. E poi c'ho un altro zaino. Di Luca. Da riempire. La valigia di Luca. È bella piena. La valigia di Chiara. È bella piena. Stavo dimenticando le borse. Brava Chiara. Allora. In realtà. Mi porto. Questa. Che è la mia borsa da battaglia. Metti caso. Che in un posto. Dove scendiamo. Me la voglio. Mette proprio a tracolla piccolina. Poi tra l'altro. Mi serve da metterci. Perché c'ho lo zaino. Ma a borsetta. Da mette documenti. Le cose. Preferisco portarmi quella. Quindi. Questo. Lo devo mettere dentro. A una borsa. Queste sono le borse. Che ho scelto da portare. A sto punto. Io direi. Che questa. Se la serata è italiana. Io sarò vestita di rosso. La lascio qua. Basta. Non c'entra più niente. Non posso portare una borsa. Che forse userò. Se poi. È la serata italiana. Mi sentirete lamentarmi. Nel wiki vlog. Del giorno. Della serata italiana. Però fa niente. Quella rimane a casa. Il vestito rosso ce l'avevo. Non ho trovato niente. Niente di bianco sinceramente. Da mettere. Quindi devo solo farci entrare. Queste borse. Il beauty. Lo zainetto. E siamo a posto. Ah. E poi ovviamente. Il computer. E tutte le cose tecnologiche. Ma io direi. Che tutta la parte. Del computer. Delle cose tecnologiche. Ve la risparmio. Perché tanto. Sono tutti i cavi. Dei telefoni. Le prese. Il power bank. Le lucine. Il computer. Quindi. Va bene. Io credo. Di avervi fatto vedere. Praticamente. Tutto quello. Che ho messo in valigia. Spero di non aver scordato niente. Ma. Se anche avessimo scordato qualcosa. Voglio dire. Secondo giorno. Stiamo a Palermo. Non è che andiamo in vacanza. In un posto sperduto. In un'isola sperduta. In mezzo all'oceano. Cioè. Credo. Da Palermo. Le vendano le cose. Quindi. Alle brutte. Se mi sono scordata qualcosa. Ma. Compro a Palermo. O a Malta. O a Barcellona. O a Marsiglia. Basta. Che poi siamo arrivati. C'è Genova. Suona Alexa. Quindi. Non ci resta che chiudere le valigie. Ma è una cosa che farò tra un pochino. Quando avrò finito di mettere tutto dentro. Ovviamente. Ci ho messo anche. Tutto l'intimo. E da questo video. Dove facciamo insieme la valigia. Vi ricordo che noi. In questo momento. Siamo in crociera. Quindi da domani. Cominceranno a uscire tutti i video. Delle cose che facciamo in crociera. Quello che mangiamo. Il cabina tour. Il nave tour. E tutto quanto. E quindi. Da questo video. Dove prepariamo la valigia. È tutto. E noi ci vediamo. Al prossimo video. Ciao.